Nella ripresa al secondo, lancio e esce Landucci, non trattiene, Minaudo a porta vuota realizza l'1-0. Dall'altra parte Baggio fa da torre per la gran botta di Onorati e Zenga si salva. In contropiede Ciocci libera benissimo Piracini da poco entrato ed è il 2-0. E ancora Ciocci servito da Serena in slalom va a realizzare il 3-0.